Buongiorno da Sicilia 24, ben ritrovati in nuovo appuntamento con Spazio Notizia che apriamo parlando di politica. Ci avviciniamo alle elezioni regionali del 25 settembre, i sondaggi danno in vantaggio il centrodestra, danno in vantaggio Schifani, ma la corsa è comunque apertissima. E allora facciamo il punto della situazione. Sale la tensione tra i partiti in Sicilia, poco più di due settimane dal voto per le regionali con ben sei candidati alla presidenza della regione. A creare fibrillazioni nelle segreterie sono i tanti sondaggi che circolano da giorni e che danno numeri differenti. Gli ultimi due confermano che in testa ci sarebbe Renato Schifani, sostenuto dal centrodestra, ma con margini sul secondo ben diversi. Secondo Ipsos per il Corriere della Sera, Schifani avrebbe il 27,8%, appena 5 punti in più di Cateno De Luca a 23,5%, il candidato fuori dagli schemi che a sorpresa sarebbe dunque molto vicino all'ex presidente del Senato, sostenuto da 5 liste. Caterina Chinnici per il centrosinistra sarebbe solo terza al 22,1%, quarto Nuccio Di Paola del Movimento 5 Stelle 19,5%. Per questo sondaggio dunque, se PD e 5 Stelle avessero confermato l'alleanza progressista, la candidata unitaria avrebbe quasi il doppio del consenso del rivale di centrodestra. Di vari ben più ampi invece per lo scenario ipotizzato da noto per porta a porta. Schifani sarebbe avanti col 42%, seconda Caterina Chinnici col 25%, a seguire Nuccio Di Paola col 15% e Cateno De Luca con 12%. La sfida dunque, prendendo per buoni i sondaggi, sarebbe quanto mai incerta. Anche le previsioni sulle liste sono alquanto ballerine, col Movimento 5 Stelle proiettato a essere il primo partito nell'isola. Decisive saranno le prossime due settimane, i partiti più grossi puntano tutto sulla PIL dei propri leader che arriveranno in Sicilia per tirare la volata a candidati e liste. Parliamo adesso di Covid, andiamo a vedere i dati dell'ultimo bollettino diramato dal Ministero della Salute, quindi bollettino che si riferisce chiaramente alla giornata di ieri, giovedì 8 settembre. 926 nuovi casi di Covid registrati in Sicilia a fronte di 10.472 tamponi processati. Tasso di positività all'8,8% e Sicilia al settimo posto in Italia per contagi. Gli attuali positivi sono 43.376, i guariti, dopo uno stop di due giorni nel conteggio, sono 28.746. Ci sono anche 19 vittime che portano il totale dei decessi in Sicilia dall'inizio della pandemia a 12.145. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 307, 10 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono invece 27, due in più rispetto al giorno prima. Per quanto riguarda infine i dati a livello provinciale, Palermo, Catania e Messina si confermano le tre province con il maggior numero di nuovi casi, rispettivamente 208 a Palermo e Catania e 165 a Messina. Questi dunque i dati dell'ultimo bollettino, quello di ieri, poi in giornata, quando usciranno i dati odierni e aggiornati, chiaramente ve li daremo nel corso delle nostre edizioni serali di Spazio Notizia. Continuiamo a parlare di Covid, andiamo a vedere il consueto report settimanale della Fondazione Gimbe, che riguarda chiaramente la Sicilia. I dati sono confortanti, i contagi sono in calo, ma i ricoveri restano sopra la media nazionale. Vediamo il servizio. In Sicilia, nella settimana dal 31 agosto al 6 settembre, si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi, meno 21,4%, rispetto alla settimana precedente. Sopra la media nazionale i posti letto in area medica, 9%, e in terapia intensiva, 3,4% occupati da pazienti Covid. Lo dice il report della Fondazione Gimbe. La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari all'11,7%, a cui aggiungere la popolazione over 5 anni temporaneamente protetta, in quanto guarita dal Covid da meno di 180 giorni, pari al 2,6%. La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari al 17,2%, a cui aggiungere la popolazione over 5 anni guarita da meno di 120 giorni che non può ricevere la terza dose nell'immediato, pari al 4,5%. Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è dell'8,1%. La popolazione 5-11 anni, infine, che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 27%, a cui aggiungere un ulteriore 3% solo con prima dose. Parliamo di calcio. Stasera il Palermo affronta il Genoa nella campionato di Serie B, una sfida importantissima per i rosa-nero che sono chiamati al riscatto dopo le ultime deludenti prestazioni. Alla vigilia del match, mister Corini ha parlato in conferenza stampa. Sentiamo alcune sue dichiarazioni. Io penso sempre che l'avversario sia una conseguenza, che vorrei che i miei giocatori dicessero che ogni partita è fondamentale, si prepara al meglio. Sicuramente abbiamo la consapevolezza di affrontare un avversario molto forte, che probabilmente con il Cagliari e il Parma è la più accreditata al salto di categoria per qualità di rosa, ampiezza di rosa e valori assoluti. Dunque l'abbiamo preparata, affronteremo il Genoa, ma anche se fosse stata un'altra squadra dalla stessa maniera, perché voglio una reazione soprattutto caratteriale e emotiva a quello che è successo a Reggio. Se volete poi ne possiamo anche discutere e approfondire quello che è successo, perché penso che dentro quello poi tutti i discorsi tecnico-tattici prendono valore se c'è un atteggiamento di un certo tipo e soprattutto il controllo emotivo che tu devi avere su quello che accade, perché se perdi il controllo emotivo la fase tattica vale poco. Di conseguenza controllo emotivo, reazione caratteriale, voglia di stare dentro le difficoltà, di saperle leggere per poi trovare la chiave giusta quando poi tocca a te andare a far male all'avversario. Su questo dobbiamo crescere tanto e le mie riunioni video, le chiacchierate con i giocatori sono state fatte per far riconoscere questo tipo di situazioni che sono molto chiare e voglio fissare loro dentro certe immagini perché attraverso queste microstrutture che sono dentro una gara di calcio a volte fa la differenza. Su questo dobbiamo lavorare per poi crescere dal punto di vista tecnico-tattico. Approfondisco un po' la domanda che mi ha fatto Paolo, che è un percorso medio-lungo perché non possiamo pretendere di avere tutto subito e dunque ho bisogno di fissare qualche concetto, di lavorarci per poi approfondirlo e lavorare su qualche sfumatura. Dunque sono tantissime le cose che dobbiamo fare contestualmente, fare prestazioni gagliarde, caratteriali e portare a casa i punti. È una partita dove voglio vedere una squadra che è capace di soffrire insieme. Se facciamo per me un'ottima fase difensiva che coinvolge tutti, possiamo creare delle difficoltà, non dobbiamo far trovare spazi. Loro hanno un sistema di gioco dove creano tanta densità centrale con le due punte e i due esterni che vengono a giocare come se fossero dei trequartisti e spingono bene con i laterali bassi, dunque ti attaccano con tantissimi giocatori. Dobbiamo fare una partita, l'abbiamo preparata per pressare bene con i nostri centrocampisti, coprire bene l'ampiezza e predisporci poi a lavorare bene in contrattacco dove possiamo però trovare degli spazi su cui possiamo andare a fare male all'avversario. L'abbiamo preparata sia dal punto di vista tecnico-tattico e anche dal punto di vista prettamente caratteriale mi aspetto una reazione equilibrata emotivamente. Ed ora la cronaca partendo da Messina. Troppe risse in un locale è stata sospesa la possibilità di effettuare all'interno di questa discoteca delle serate danzanti. Vediamo il servizio. I poliziotti delle volanti hanno notificato il provvedimento a firma del questore di Messina di sospensione della licenza per tenere trattenimenti danzanti presso il noto locale della via consolare Pompea denominato Mama. Il provvedimento scaturisce da un'attenta attività istruttoria realizzata dalla divisione Pasi della questura di Messina a seguito degli interventi da parte della legione Carabinieri Sicilia, Compagnia Messina Centro e dell'Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura di Messina. In particolare le forze di polizia hanno accertato condotte delittuose e violente realizzate all'interno del noto esercizio cittadino per le quali si è resa necessaria l'adozione da parte dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza del predetto strumento cautelativo che assolve ad un'importante finalità di prevenzione affinché tali situazioni non si ripetano. L'arma dei Carabinieri ha accertato le gravi condotte realizzatesi lo scorso 28 agosto che avevano condotto all'adozione di una misura cautelare in carcere per i reati di tentato omicidio e porto abusivo di oggetti atti a offendere perpetrati al culmine di una violente lite scaturita per futili motivi nel corso di una serata danzante all'interno del noto locale. Le volanti invece sono intervenute la notte dello scorso sabato 4 settembre all'interno e subito dopo all'esterno del locale a causa di una violenta rissa che aveva messo in pericolo anche gli altri clienti estranei al diverbio sorto pure stavolta per futili motivi. Tali episodi segnalati alla divisione Pasi della questura di Messina hanno permesso a quest'ultimo ufficio di svolgere ulteriori accertamenti e di constatare con riferimento alla discoteca MAMA un concreto pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica. Opportuna pertanto l'adozione da parte del questore di Messina del provvedimento che impedisce attraverso la chiusura temporanea del pubblico esercizio il protrarsi di tale situazione che rischia di compromettere la sicurezza dei cittadini che si trovano in quel locale o che intendano semplicemente passeggiare nelle sue prossimità. Ancora attenzione all'ospedale civico di Palermo la scorsa notte nel reparto di prima medicina in seguito alla morte di un novantenne gli operatori sanitari hanno vissuto momenti di grande tensione di paura a causa dell'irruzione di decine di familiari del paziente. Un inferno raccontano i presenti che hanno rischiato anche di essere colpiti dalla rabbia dei parenti. Sono anche intervenute diverse volanti per cercare di riportare la calma. Restiamo a Palermo ma cambiamo argomento. Tre giovani palermitani di 18, 22 e 25 anni sono stati arrestati con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso. La scorsa notte infatti un agente libero dal servizio ha notato in via Oreto tre persone sospette. Il primo era intento ad armeggiare su una vettura in sosta mentre gli altri due facevano da palo. Contattata la centrale operativa sul posto sono giunti i poliziotti che hanno prontamente bloccato i tre malviventi. I tre giovani sono stati quindi arrestati nella flagranza del reato e condotti presso dei rispettivi abitazioni in regime di arresti domiciliari. Ed ora a Catania parliamo di una truffa da oltre 28 milioni di euro sulle accise di prodotti energetici. Sono nove le misure cautelari emesse. Nove misure cautelari personali e reali sono state eseguite dalla Guardia di Finanza di Catania nei confronti di nove indagati a vario titolo anche per sottrazione all'accertamento al pagamento dell'accisa su prodotti energetici. Nel provvedimento il GIP, su richiesta della procura distrettuale, contesta anche i reati di frode fiscale in debita compensazione d'imposta con crediti inesistenti, emissione di fatture per operazioni inesistenti, omesso versamento IVA, falso in atto pubblico, intestazione fittizia di beni e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Per quattro degli indagati il GIP ha disposto la detenzione in carcere, per due gli arresti domiciliari e per tre l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Anche disposto il sequestro di beni per 28,5 milioni di euro, ritenuto il danno complessivo subito dall'erario. Al centro delle indagini dell'operazione Petrolio Fantasma del nucleo PEF della Guardia di Finanza di Catania ci sono diverse imprese delle province Etnea, di Palermo, Trapani e Siracusa, operanti nel settore della commercializzazione di prodotti petroliferi. Personaggio indicato allo stato dell'inchiesta dalla procura di Catania come figura centrale di un collaudato sistema di evasione delle accise e dell'IVA sarebbe Sergio Leonardo che, contesta l'accusa, con altri soggetti a vario titolo concorrenti avrebbe realizzato dal 2018 al 2021 condotte di frode fiscale commercializzando ingenti quantitativi di prodotti petroliferi destinati all'autotrazione senza versare le relative imposte. Per commettere i reati e la tesi della procura di Catania sarebbero state utilizzate società cartiere e prodotti petroliferi destinati agli esportatori abituali ma in realtà immessi in consumo nel territorio nazionale, oltre a crediti di imposta inesistenti e uso commerciale per aziende di trasporto compiacenti di gasolio agricolo sottoposto a tassazione agevolata. Una prima tranche delle indagini del nucleo PEF della Guardia di Finanza di Catania era sfociata in otto arresti nel sequestro di oltre 80 mila litri di prodotti energetici di illecita provenienza e di sette autocisterne. Restiamo nel Catanese. Un pitbull avrebbe aggredito un'intera famiglia composta da padre, madre e figlia piccola all'interno della villa comunale di Adrano. L'animale, che non aveva la museruola, sarebbe riuscito a liberarsi dal guinzaglio e si sarebbe scagliato sui presenti mordendo i due adulti. L'uomo ha riportato delle scoriazioni alla gamba, la donna invece è stata zannata all'orecchio. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale Cannizzaro di Catania, mentre la bambina fortunatamente non ha avuto conseguenze. Ora la proprietaria del pitbull rischia una denuncia per lesioni personali. E con questa notizia ci fermiamo, per il momento è tutto, ma ci ritroviamo più tardi su Sicilia 24. A dopo. Grazie a tutti.